Musica E ciao a tutti e ciao ragazzi Benvenuti in questo nuovo gameplay Quest'oggi stiamo su GTA V Prima di tutto ragazzi Vi ringrazio per il like L'iscrizione e L'attivamento delle notifiche Così non vi perdete nessun video Bene Siamo qui su GTA V come detto Su computer per la prima volta Insieme a voi Perché come vedete Ho già Svolto alcune missioni Quindi sono un bel po' in alto Diciamo da quando uno inizia Che comunque sia Ho iniziato un nuovo profilo Quindi Partendo da zero praticamente E adesso sono Come vedete il livello quasi 38 Quasi Ho 200.000 dollari Ma Non sto facendo il video Per farvi vedere queste cose O comunque sia Anche per farvi vedere queste cose Allora Prima di tutto ci mettiamo I 2000 dollari Che mi è andato Per essermi comportato bene In banca Così stiamo ben sicuro Ok Ora Ragazzi Come vi faccio vedere In questo momento Aspettate che sbaglio tasti Allora La mia prima casa È stata questa qui Perché dopo comunque Si andiamo a vedere È una casa Molto Carina Diciamo Niente di che Non è costata neanche tantissimo L'ho presa come prima casa Appunto L'ho presa in una zona Abbastanza isolata Siccome comunque Si era A livello abbastanza basso Appena iniziato Quindi In caso mi misco In sessioni pubbliche O comunque sia Dove ci sono persone Che magari Si ammazzano fra di loro Io sono in una zona Abbastanza Tranquilla Diciamo Remota Qui so Quest'oggi però Mi è venuta la splendida idea Anche per necessità Soprattutto Di Trasferirmi Diciamo In città Bene Voi vedete pure il veicolo Ma Non ne ho solamente questo di veicolo Magari dopo Vi Mi faccio vedere anche Il mio primo Mio primo Vabbè Il mio primo veicolo L'ho venduto in realtà Era La La Buffalo La macchina La stessa macchina Che a Franklin Insomma Nella Nella storia Ok Che comunque Si Vi porterò Più Molto Più avanti Quando però Vi porterò Prima di tutto Gli altri GTA Prima di GTA 5 Voglio portarvi Gli altri GTA Bene Adesso Cosa facciamo Acquistiamo questa Questa casa Vedete E parte Dallo speciale Independence Independence Day Un registro Di Eh vabbè Questa cosa Ok Che è? Ah no Io non voglio Permettare niente Ecco qua Boom Ok 175.000 Dollari Spesi Per comprare Questa proprietà Questa casa Questa casa Anche Vi faccio vedere Magari Prima vi faccio vedere Il fuori Perché l'ho già vista Comunque Si Mi sembra Carina Anche per fare Magari Qualche Pesticciola Qua dietro Per cazzeggiare Un momento con gli amici Eccetera Mi sembra da carina Vedete Qui c'è un bel pratino Per fare magari Barbecue Eh Qui sotto C'è anche la scala Apposita Per Eh Insieme alla piscina Eccola qui Piscina Sdraio Gli ombrelloni Ora mi bagno il vestito Qui c'è anche un'altra zona Per guardarsi Bene il panorama Di Los Santos La casa non costa neanche tantissimo Se Se Ci pensate No Qui abbiamo due belle scale Con degli archi E niente Qui c'è il balconcino E poi si ritorna Qui dietro All'entrata Bene Allora Noi facciamo subito una cosa Questa Questa casa Stavo dicendo anche Sei posti auto Quindi un bel po' di posti Per Conservare Le nostre auto E Quindi Questa qui Ragazzi E l'auto Diciamo Io la chiamo L'auto Per lavoro Perché? Perché è blindata Quindi mi permette di fare Le uccisioni Gli headshot Contro Mentre faccio le missioni Non ho ucciso Gli nemici E faccio tutti gli headshot Praticamente sto nell'auto Quindi non prendo Più di tanti danni Mi protegge Non muoio Anche perché Essendo un livello così basso Ma poi non voglio perdere Neanche tempo A morire Eccetera Quindi capite bene Che Mi conviene Soprattutto Anche questa cosa Ora Se io riesco Ad andare Nell'appartamento E la casa Non l'appartamento Vi faccio vedere Interno Perché io Comunque neanche Me lo ricordo Ok Ci sono Un paio di quadri Il Il gioco Che si chiama Ok Ci sono alcuni film Quella tizia lì Ombrellone Aldi Napoli Ok Perfetto Qualche quadro Qui e lì La cucina Un paio di cose La radio I giornali Eccetera Questa Insomma È una casa Abbastanza modesta Anche molto bella Già arretata Purtroppo Non si può modificare Più di tanto Ma pazienza Anche perché Non ne ho speso Un milione di dollari Per comprarmi Un appartamento E qui ci sono Le candele Invece delle lampade Ok Dopo vi faccio vedere Anche quella Che sta Nel Nel deserto Magari quella Utilizziamo più che altro Nell'estate Così simuliamo Insomma L'estate Stiamo Stiamo Ritirati Insomma Dalla città Stiamo In vacanza Diciamo Quindi Simuliamo La vacanza E ci trasferiamo A paleto Poi Più avanti Compreranno anche Lo yacht Molto più avanti Serviranno 8 milioni Anzi 9 milioni e mezzo Perché me lo ricordo Che tra Personalizzazioni E altre cose Insomma Se ne vanno Un bel po' di soldi E vabbè Niente Questa è la casa Insomma La Kuruma Appunto È la macchina del lavoro Come la chiamo io Per fare missioni Colpi Tutte le cose Insomma Che richiedono Un'auto Degna Che mi possa proteggere Insomma Usciamo da casa Quindi Ci togliamo La prima persona Chiamiamo Il meccanico Adesso noi Faremo pure Un'altra cosa Ok Ci serve Quella macchina Perché ve la Devo fare anche vedere No Allora Qualetto LG La LG Che poi l'ho personalizzata La mia prima auto Personalizzata Quindi Molto importante Come cosa Mentre la Buffalo Quella sempre Relativa Uguale a Quella di Frank Insomma È stata Siggraffignata L'ho Presa in prestito E poi L'ho venduta Per non essere Insomma Incriminato Di qualcosa Comunque Qui c'è sempre La radio Mi sa che Quando registro Forse è meglio Se imposto La radio Che non si accenda Proprio Evito di fare Questi problemi Allora Vediamo Andiamo Subito Quindi la macchina Vedete Non è personalizzata Ovviamente Al massimo Ho personalizzato Un po' il look La vernice Soprattutto Ho messo i neon Le marmitte Le ruote Come vedete Le luci Il motore Leggermente Un po' La trasmissione I freni Insomma Quello che potevo Per il momento Non è niente Di personalizzato Al massimo E va bene Quindi qui Qui arriva il bello Perché adesso Che troviamo Magari anche Una strada Un po' più Simmetica Un po' più dritta Rovinava la macchina Un po' più dritta La mettiamo un po' In estremo Questa macchina La facciamo un po' Girare Così Perché comunque Non è un'auto Che io porterò Sempre Non è un'auto Che Insomma Far uscire di casa Molto spesso Oh non c'è fatta niente Ok perfetto Quindi per noi Quindi non sto neanche Laggando 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 Tre tacchie Quindi non sto laggando Non è sopra i centri Il ping Ma perché cacchio Ma è taglia Eh vabbè Un po' di danno Sembra Ovvio Vabbè A parte questo Adesso non stiamo andando Verso paleto Forse avete pure capito La casa Comunque io ve la faccio vedere Perché Ho voglia di farvela vedere GTA come gira Sul mio computer Gira che è una bestia Va A 63 64 frame Tutto al massimo E Ovviamente Quando registrerò Quando Insomma Potrò pure Editare video Mentre giocherò Ma Un po' Il Diciamo La grafica Tutto quanto Dovrò un po' Leggermente abbassarlo Anche la fine Non è che poi Ci sia Chissà che cosa No Alla fine Voglio dire Una 1070 Fa più che bene Il suo lavoro Un po' più avanti Si vedrà Insomma Un po' per adesso Sto più che bene così Anche perché Il pc è nuovo È garantito Tre anni Tutti i componenti Tutti garantiti Per tre anni Quindi Sto veramente A posto E Comunque Adesso Concentriamoci Più che altro Su Sul canale Ecco Aiutatemi A crescere Aiutatemi Iscrivetevi Iscrivetevi Poi magari Avvierò anche Qualche Come dire Intanto Accendiamo le luci Così Per farci vedere Perché è bellissima Sta macchina E niente di speciale Però La prima auto Customizzata L'ho fatta anche Per bene Oltretutto Quest'auto È sempre gratuita Quindi No Ho risparmiato Anche dei soldi Nell'acquista Dell'auto Però Ne ho spesi Poi per Personalizzarlo Un po' No Diciamo Che ho fatto Spendere Vabbè Niente Dai Andiamo Verso Paleto Siamo Quasi arrivati Mancano 4 km Poi Diciamo Adesso Questo è il primo Gameplay Però Più avanti Portere un po' Di missioni Mi dovrò portare Anche una piccola serie Su GTA Che ho già in mente Mi è venuta così Mentre pensavo A cosa portare Non vi dico Non mi spoilerò Niente Quindi niente Appena Appena avrò Tutto organizzato Eccetera Perché comunque C'ho tanti altri giochi Da dover portare Quindi Ci sarò Un bel po' Di Di cose Da fare Insomma Oltretutto Adesso Sto ancora in attesa Però A breve Dovrei iniziare A lavorare Quindi Depende anche Dal tempo Che io Quasi Almeno un video Settimana Avrei intenzione Di portarlo A parte La settimana Passata Quasi C'è stato Un periodo Un paio di giorni Della settimana scorsa Insomma Che Ho ritardato Un po' Con i video Perché Tra Mal tempo Tra problemi Con la connessione Perché appunto Il mal tempo Ha danneggiato L'antenna Non quella mia Per fortuna Ma Quella Dove Praticamente Riceve il segnale La mia E Mi si è danneggiata Ha avuto dei problemi Adesso Sono stati Abbastanza veloci A sistemare Ovviamente Il fine settimana È stato quello che è Però La domenica Già ha iniziato A funzionare Quindi Insomma Più che è a posto Peccato per il sabato Ma Ci saranno altri Sabati Insomma Per poter fare Qualche cosa Altra Quindi ragazzi Siamo arrivati Eccola qui Questa è la casa Da fuori Non sembra niente Di granché È vero Comunque Neanche dentro E niente Di granché Il garage Ha due posti auto Ma A guardarlo da fuori Sembra solamente uno Io l'ho comprata Più che altro Perché mi piaceva Lo stile C'è la bandiera americana Più che altro Per quello Poi c'è anche Un piccolo giardino Fuori Mi è sembrato Molto bello Oltretutto C'è un negozio Lì È una zona Abbastanza tranquilla Per cui Ho detto Perché no Adesso Vi faccio vedere L'interno Dai Questo l'ho chiamato Questo completo Che vedete Sopra L'ho chiamato Il completo Da mafioso Completo Mafioso Proprio così Perché poi è stato Anche il mio primo Completo Insomma Gita un po' Anche questo Per significare Per significare la mafia Allora Qui ci sono Delle foto Che io neanche Conosco Perché Questi non sono Neanche i genitori Del suo tizio Del personaggio Il mio personaggio È stato Un misto Tra Nico E un'altra Signora Molto Carina Nico Bedik Se lo conoscete Vi vorrò conoscere Appena possibile Io Niente Insomma Qui Non c'è Molta tecnologia Come vedete Ci sono le candele Che fanno luce Un orologio Che altro Insomma Un po' Fatto così L'arredamento Poi la mochetta Pure bruciata Insomma Non è Qui c'è sempre Del fumo Si deposita sempre Del fumo Chissà perché Spero che non vada A fuoco la casa C'è qualche Qualche quadro Qui Di qualche film The Shoulder Of Orion 2 Vabbè Qui È una televisione Abbastanza vecchiotta Rispetto Al Al Super Led Che abbiamo A casa Quella Che abbiamo Appena acquistato In un'altra storia Quindi appunto Questa La utilizziamo Come casa Vacanze Diciamo In estate Siccome qui Stiamo vicino Al deserto Mi sembra anche Più che Bello Insomma Comunque Qui c'è un piccolo Televisore Magari questo Un po' più moderno Una Tale Station Comunque Ragazzi A me è sempre Piaciuto Cioè La cosa di giocare GTA Con mouse e tastiere Mi è sempre Piaciuta Dà veramente Un altro gusto Al gioco Io ve lo consiglio Sinceramente Ve lo consiglio Con mouse e tastiere Il gioco Veramente Una gran cosa Qui c'è il bagno Si può Adesso Bagno abbastanza Mediocre Non c'è niente di che La doccia E qualche altra cosa Abbastanza stretta Vedete no? Ciao Grazie per il like Vediamo se me lo nette Yeah Ok Vabbè ragazzi Io non so da quanto Ah 16 minuti Ok Ancora c'è qualche cosetta Altra che potremmo pure fare Allora andiamo nelle garage Prima di tutto Prima che ci dimentichiamo Eccoci qua Il garage Anche questo Non è niente di che Pieno di attrezzi Cose chimiche Motore Che non so neanche cosa farmene Paraurti Dei sedili Motore A scoppio Qui per Non so cosa Vabbè Insomma Pieno di attrezzi E sta cosa qui Vediamo se riusciamo a uscire Ok Va bene Dove cacchio Perché? Perché Comunque ragazzi Non per dire Ma Questa casa è abbastanza bugata Io esco da lì Cioè dal garage E mi rimanda qui Non lo so Cosa abbia di In mente Cioè Comunque La faccio vedere anche da fuori Aspettate Forse è meglio andare per di là Per far entrare In garage Qui appunto il prato Vedete C'è un piccolo giardino Qui l'uscita posteriore Che purtroppo Non si può utilizzare Qui c'è qualcosa in altra Non so Una piccola copertura Forse potremmo anche parcheggiarci L'auto Ma non credo che Riusciremo ad entrare A meno che non andiamo sul prato Ma Comunque sia Poi vedremo In quest'estate Qui c'è una bella staccionata Il mare ce l'abbiamo davanti Quindi come dicevo Una volta che prendevamo lo yacht Che prendiamo lo yacht Potevamo In estate magari Trasferirci sullo yacht Che forse anche È la cosa ancora più migliore Ma Ogni tanto Potremmo pure Tornare in qualche casa Quindi utilizzeremo questa E lo yacht Appunto Ce lo potremmo gustare Direttamente da lì Perché tanto Questo è Il cugino Fred Ciao Fred Non c'è nessuno Vabbè Comunque Lo yacht Si può tranquillamente Ormeggiare Per di lì E noi ci avremo Una bella vista Potremmo vederci Anche la nostra bella casa Insieme al nostro amico Fred Fred Vabbè Fred sarà fuori Sicuramente Eh no Ma l'auto sta in casa Sarà nel giardino Probabilmente Sarà uscito Con gli degli amici Non lo so Vediamo Fred è un po' strano Perché Non ha messo Le scale Pronto Fred Fred Vabbè Sarà in bagno A fare le sue cose Ok Perfetto Noi Rientriamo Nel nostro vialetto Quella è la nostra auto Molto bella Io direi di fare Una bella Allora Allora Facciamo una cosa Perché a me mi serve Per la miniatura No Così vi faccio vedere Magari Farò anche un piccolo tutorial Su come faccio miniature Su come edito i video Che Sarebbe anche molto carino Allora Vediamo di Di uscire senza fare danni Perché ovviamente Si faccio danni Che dite Facciamo così la foto Faccio insieme a voi La miniatura Allora Guardate Io mi faccio Un attimo solo Impostazioni Come si fa Come si fa Come si fa Forse visuale Schermo Radar Eccolo Facciamo no Oh Settiamo che si tolgano Le armi E quant'altro E anche Queste cose Scendiamo magari le luci Peccato che non è notte Altrimenti sarebbe ancora più epico Vabbè Pronti Via Ok Facciamo pure da fianco Che dite Un po' sporca Sta macchina Dovremmo Andarla A lavare Andiamo Facciamo un'altra Beh Così Giusto Questo Paglio sempre Tasti Dai A bandiera Alzati Madonna A bandiera E Boom Ok Perfetto Vabbè Abbiamo fatto un paio di Di foto Perfetto Possiamo andare a lavare magari la macchina Come ultima cosa Allora Un lavaggio qui vicino Non ce n'è Non esiste Mi sa di no L'unico lavaggio è a Los Santos È molto Vabbè 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 E niente Dai A sto punto ragazzi A me non mi resta che salutarvi Laveremo Prossimamente La macchina Niente Ancora un saluto Grazie a tutti Mi raccomando Iscrivetevi Commentate Lasciate un bel like E ditemi Cosa Ne pensate Insomma Di questa Bella cosa Ok Io a breve porterò Altri video Su altri giochi Ad esempio Eurotrack Dovrei anche comprarmi Per Natale Per Natale Un bel volante Così Diventa tutto più realistico Con Eurotrack Simulator 2 All'altro A me piace un botto Scusa Fred Ti ripago Vuole staccionare Ancora Ok ragazzi Dai Come già detto Allora vediamo un attimo Se Allora vediamo quanti soldi abbiamo Prima di salutarci Per tutto Perché Poi Io sono curioso Allora Vediamo se c'è Qualche barca Magari Scuntete Ups Ho sbagliato tasto Allora Potremmo prenderci Anche lo Seashark Ma Non ci serve Tanto Ah eccolo qui Cosa potremmo Prenderci Eccolo qui Potremmo pure Potremmo pure Prenderlo Perché Anche è gratis Ah Questo Ah Ce l'abbiamo già Probabilmente L'ho già preso Ok Chiedo scusa L'avrò già preso Vabbè Qui Non c'è niente Di Potremmo ancora Prenderci No Qui Ci sono tutte cose costose Bene Bene Certo che Un ultra leggero Pagarlo 500.000 Dollari Non è proprio Una gran cosa E poi Questo elicotterino In miniatura Non lo dico nemmeno Quanto costa Perché Insomma Si vede Questo sarebbe invece Bello Tutto d'oro Ma è abbastanza inutile Perché A sto punto Mi prendo Un bel caccio Bombardiero Un bel caccio Bombardiero Poi dovremmo Prenderci Tante altre cose La Come si chiama Il motor Cycle club Lì Per Dei lost No Avete capito Prenderemo Un centro operativo Gli uffici Della banca Che si chiama E diventare un boss Insomma Prenderemo un bel po' Questa macchina Pure Qualcosa di incredibile E ci saranno Un bel po' Di cose Questo mi ricorda Tanto GTA De Ballad Of Gatoni E Vabbè Ci sono un bel po' Di cose Che Dovremmo Acquistare Insomma Dai C'è C'è la Atterrazzatura Balistica Che non è Neanche Tanto male Beh Tanti veicoli Questa qui La vorrei pure La Reiner E L'Hydra Potremmo prenderci Un bel po' Di cose Dovremmo Sì Uh La Ducodet Ducodet Ok Acquista Dove andiamo? Qui no? Andiamo Questa è anche Forse buona Per Le missioni Non lo so Sinceramente Perché comunque Non ho mai capito Se si può sparare Se non si può fare niente Poi Non lo so Non è Non mi sembra Abbastanza resistente Dato che c'è il motore Qui sopra No? Non so quanto Possa resistere Non credo quanto L'acquiruma Mai nella vita Oltretutto Questa mi sa Che neanche si può Personalizzare Vabbè ragazzi Dai Veramente Da Da qui è tutto Io vi saluto Grazie a tutti Per il like E iscrivetevi Ciao